Il loro asse play pivot americano è la prima attenzione che dobbiamo mettere all'interno della chiave tattica della partita. Sono molto pericolosi con l'esterno Butorac di origine slava che qua fece 20 punti e giocò una buonissima partita e i loro numeri 4, le ali forti, sono molto perimetrali, sono ragazzi giovani, forse non particolarmente fisico-atletici, però hanno buone mani. Ci sono alcune cose che devono rimanere impresse nella nostra testa, dobbiamo giocare una buona difesa, alternare il ritmo per cercare di non dare loro la possibilità di scappare e giocare il nostro basket offensivo che ultimamente sta dando dei buoni risultati. È una partita molto difficile da preparare perché dal punto di vista emotivo è una partita il cui risultato non influirà sul passaggio del turno e questo anche se non sarà motivo di discussione con i giocatori o di informazione nei confronti dei giocatori, comunque arriva da questo messaggio. Loro sono sempre informati e conoscono lo stato delle cose e quindi il fatto che la vittoria o la sconfitta lascerà comunque inaltirata la situazione e lascerà tutta la posta in palio nell'ultima partita decisiva in casa contro gli svedesi, a livello emotivo e psicologico vuol dire preparare una partita senza l'aiuto e il supporto delle motivazioni del risultato. Io farò di tutto per cercare di trasferire comunque l'importanza di continuare a giocare, a giocare bene, a vincere, a mettere minuti importanti di basket, di palacanestro nel motore di una squadra che deve ancora conoscersi, migliorare e mettere insieme appunto tante anime che devono riuscire sempre prima e sempre meglio a parlare lo stesso tipo di basket. La Shepard sicuramente rimarrà a casa assieme a Ovidius, Varanauskas, anche Rock Ukic, abbiamo pensato di continuare sul programma di lavoro che ha iniziato la settimana scorsa e quindi andremo via in undici. Ci sono diverse situazioni da valutare, Campani ha preso una brutta insaccata in un dito di una mano, Mo Faie ha problemi di mal di schiena, abbiamo Mike Thompson che è abbastanza indisposto. Dobbiamo capire alcune situazioni, proprio numerico, ma io mi aspetto il contributo da parte di tutti a partire da Giancarlo Ferrero, Lorenzo Molinaro e da tutti coloro che comunque potranno andare in campo e ci potranno dare una mano.